salve eccoci amici cari anche questa sera domenica ma ormai non esiste più domenica non esiste più la festa non esiste più poter pensare a un'altra domenica dopo quella che viviamo come un momento sereno come momento familiare come un momento di svago ormai stiamo contando le ore per essere nuovamente completamente chiusi state vedendo ogni giorno ogni giorno esce un'ipotesi chiusa le scuole chiusi i trasporti pubblici chiusi alcuni uffici e chiusi alcune regioni ogni giorno ci stanno ci abituano a queste notizie in continuazione e ormai fra qualche ora probabilmente entro mercoledì uscirà una nuova semi chiusura dell'italia per poi la prossima settimana domenica prossima una chiusura quasi totale quindi iniziamoci a preparare iniziamoci a preparare ovviamente come ben sapete con qualche scorta qualche scorta di medicinali qualche scorta qualche scorta di alimentari purtroppo andremo verso un altro periodo particolarmente oscuro vedete ma non c'è solo questo questo sarebbe già un qualche cosa che forse siamo siamo già assorbendo anche se noi non ci fermeremo ecco lo dico a chiari lettere lo dico a chiari lettere a nome del comicos come a nome dei r20 20 a nome di tanti altri amici che stanno al nome di centinaia di avvocati che anche stasera stanno lavorando a tutte le nuove norme che di cui adesso parliamo norme folli che stanno schizzando come come geyser in tutta italia in ogni regione in ogni comune e noi stiamo vivendo ogni giorno centinaia di amici che ci chiamano e ci dicono ma com'è possibile io lavoro al primo piano di un ufficio di quattro piani quello dell'ultimo piano risulterebbe risulterebbe positivo asintomatico circolare tutti i tamponi ma ma è una follia ed è un'illegittimità confermo è illegittimo è illegittimo è vietato non lo prevede la legge ciò che non è previsto dalla legge è vietato è una violazione dei diritti costituzionali ma siamo circondati sono talmente tanti casi dal condominio al posto di lavoro alla scuola è un bombardamento sembra di essere davanti un potere di esecuzione comunque noi non ci arrendiamo guardate noi non ci arrendiamo ma non ci arrendiamo e non ci arrenderemo e continuiamo anche se sembriamo pazzi a farlo nei metodi con i metodi costituzionali giudiziari che ci consente la costituzione continuiamo a denunciare continuiamo ad andare nei tribunali siamo contro non molliamo un attimo una e non ci perdiamo non perdiamo la fede qualcuno dice ma tanto non serve niente guarda tu qualcuno che dici non serve nulla la differenza tra noi e te e che noi combattiamo la differenza tra noi e te che noi in questo momento siamo qui a lavorare a difendere i cittadini a tutelarli a fare ricorsi tu stai giocando alla prestation tu stai davanti al televisione a guardare la partita ecco la grande differenza il tuo egoismo contro il nostro altruismo e noi combattiamo e continuiamo chi tra noi ha la fede e quindi è sorretto da un motivo religioso chi tra di noi crede nell'amore del popolo del cittadino del fratello e quindi ha un altro motivo io credo nell'amore tra i cittadini perché se non c'è amore e rispetto non c'è una società non vogliamo essere dei robot non vogliamo essere dei lobotomizzati e allora e allora guardate stasera è successa una cosa di una gravità colossale lo dico a tutti i colleghi avvocati magistrati che sono in questo momento in diretta che vedranno questo filmato anzi divulgatelo al massimo che stasera è successa una cosa epocale che potrà cambiare la nostra vita sembra una cosa locale no è epocale hanno provato questa sera a cancellare a cancellare l'articolo 32 della costituzione italiana hanno provato questa sera a cancellare un articolo della costituzione italiana che è stato scritto con il sangue di una guerra il sangue di una guerra cosa dice l'articolo 32 della costituzione ve lo leggo e poi vi leggo come stanno provando a cancellarlo e mi vergogno mi vergogno come cittadino italiano di questa barbarie giuridica barbarie giuridiche di vilipendio della costituzione articolo 32 della costituzione la repubblica tutela la salute come fondamentale diritto nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per una disposizione di legge 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 non ordinanza una disposizione di legge ma in nessun caso può violare i limiti imposti dalla persona umana della persona umana articolo 32 della costituzione ed ecco il vilipendio ecco il vilipendio della costituzione italiana e delle nostre vite e delle nostre vite luca zaia ho firmato un'ordinanza con la quale rendo obbligatorio ma sentite che sentite a quale a quale livello di incostituzionalità siamo arrivati di di mortificazione dei diritti soggettivi di ognuno di noi di di catastrofe del diritto sentite ascoltate bene e questo è la punta dell'iceberg se passa questa ordinanza di zaia in tutta italia saremo obbligati a sottostare al regime sanitario senza avere una possibilità di far vigere i nostri diritti rendo obbligatorio per tutti i medici medici di base del veneto l'effettuazione di test ai propri assistiti test covid tutti i medici di base saranno obbligati e tutti i cittadini saranno obbligati chi si esime da tale da tale da tale obbligo sarà sanzionato sarà sanzionato sarà sanzionato il prossimo passo sarà sarà internato in un campo di concentramento il prossimo passo ormai sarà sanzionato il medico di base il medico di base diventa ufficiale 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 pubblico il medico di base diventa pubblico ufficiale dico ragazzi qui siamo in un vilipendio del diritto mostruoso che non ha non ha uguali nella storia nella storia d'italia né forse nella storia dell'occidente l'obbligo l'obbligo per i medici di effettuare il tampone di tutta la popolazione anche di quelli completamente sani anche di quelli che sono guariti guardate da qualche minuto ho mandato messaggi a tutti i nostri amici avvocati da cui sto aspettando risposte già stasera stanotte domani abbiamo già un incontro con il magistrato giorgiani l'avvocato lillo musso l'avvocato morigia l'onorevole cunia domani alle 17 con questo incontro in cui studieremo ma studieremo a ore l'impalcatura dei ricorsi che faremo contro questa ordinanza perché se questa ordinanza passa e passa anche con un giudizio positivo del tal consiglio di stato è cassata inderogabilmente la costituzione italiana e noi questo non lo consentiamo noi questo non lo consentiamo e vi chiediamo coesione a tutti perché nessuno di noi si può permettere che venga stracciata la costituzione italiana non è possibile quindi vi daremo assolutamente al corrente domani sera già ci sentiremo vi diremo quello che abbiamo deciso e vi diremo come vogliamo opporci democraticamente legittimamente costituzionalmente a questa che riteniamo una violazione dei diritti non solo della costituzione italiana ma i diritti della costituzione europea faremo tutte le iniziative possibili possibili chiederò a tutti gli avvocati disponibili di andare dinanzi la corte europea di giustizia a strasburgo e inginocchiarci davanti la corte europea di strasburgo per chiedere che la costituzione europea venga attuata anche in italia anche se viene cancellata la costituzione italiana vi voglio dire vi voglio dire che nel frattempo stiamo ancora lavorando per la nostra amica amica ammanettata a firenze vilipesa strattonata e vi voglio dire che abbiamo avuto parecchi parecchi sostegni alcune associazioni stanno presentando loro specifiche denunce querele facciamo vedere la denuncia che ha presentato il movimento d'italiana sovrana il segretario nazionale roberto biasotti ci ha inviato l'esposto alla procura della repubblica sui fatti di firenze abbiamo la l'amica barbara a nome di un'associazione animalista che si è resa disponibile a costituirsi eventualmente parte civile nel processo perché c'è stato un maltrattamento da parte dei vigili chiaro palese nei confronti di quel povero animale strattonato e poi lasciato andare e quindi significa che esiste un mondo che rispetta ancora l'essere umano e per fortuna questo mondo si stringe attorno a noi come abbiamo detto siamo una famiglia ormai coesa e ci dobbiamo aiutare aiutiamo il nostro vicino il nostro vicino che anche spesso sull'orlo di qualche crisi e non parliamo delle cose più disperate aiutiamolo stiamogli vicino creiamo una coesione nuova tra di noi fino all'altro ieri forse non abbiamo parlato neanche col nostro vicino di pianerottolo creiamo coesione più ci opprimono più ci distruggono più creiamo coesione perché noi continuiamo nella nostra marcia siamo pochi forse saremo pochi non riusciamo ad ottenere risultati forse per adesso ma stiamo continuando a lanciare granelli di sabbia in questo meccanismo e non molleremo e non molleremo domani vi faremo sapere le ulteriori iniziative giudiziarie che stiamo organizzando sempre alle ore 19 mi raccomando aumentiamo al massimo la diffusione del nostro dei nostri colloqui di quello che ci diciamo e ricordatevi 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 l'importantissimo documento che abbiamo pubblicato sul nostro sito www io sto con l'avvocato polacco punto it che è un documento in cui dobbiamo sottoscrivere portarci in tasca darlo al nostro medico curante in cui ove ci dovessero ricoverare in ospedale non prestiamo il consenso all'intubazione ricordiamocelo non è una cosa sciocca di particolare importanza andatevelo a vedere quel documento facsimile ed eventualmente se lo ritenete giusto diffondetelo diffondetelo tra i nostri amici e soprattutto consegnatelo al vostro medico di fiducia vi abbraccio ci vediamo domani sera non molliamo mi raccomando